Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Come vi avevamo già accennato, la famiglia Allen è in continua espansione. Oggi mostreremo un nuovo Allen che prende una nuova veste, ovvero una veste più elegante, ricca di paillettes e di luminosità. È l'Allen Chic. Scopriamolo insieme! Eccolo qui il nostro Allen Chic, un gomitolo in morbida pelliccia sfumata e paillettes. È composto al 6% da lana, 40% top acrilico, 25% poliestere e 29% poliammide. Un gomitolo dal peso di 100 grammi per una lunghezza di 100 metri all'incirca. Per questo filato vi consigliamo i ferri dal 7 all'8 e gli uncinetti dal 6,5 al 7,5. Passiamo ora alle istruzioni per il lavaggio. Per questo filato è consigliato il lavaggio a mano ad una temperatura che non superi i 30 gradi. È possibile utilizzare tutti i solventi, eccezione fatta per il tetracloretilene. Per quanto riguarda l'asciugatura sconsigliamo l'utilizzo dell'asciugatrice, ma è da preferire un'asciugatura sul ripiano orizzontale. Vi ricordiamo di non candeggiare e di non stirare questo tipo di filato. Andiamo a scoprire ora tutte le colorazioni disponibili. Quella che abbiamo appena visto è la colorazione viola, che presenta un'anima color argento con l'applicazione di paillettes argentate. Questo è il colore smeraldo. Anche qui l'anima è nella colorazione argento con paillettes argentate. Questa è la colorazione perla. Qui, come potete notare, il contrasto è meno evidente, in quanto l'anima si fonde con il colore stesso del filato. Un contrasto molto più evidente, invece, nella colorazione rosso. Qui, come potrete notare, le paillettes e l'anima argento sono molto più evidenti. Ancora un tono su tono per la colorazione del nero. Qui le paillettes creeranno un tocco di luce che renderanno i vostri capi davvero eleganti. Per la colorazione senape, invece, troviamo un'anima argento con paillettes oro. La colorazione panna, che presenta un'anima argentata con paillettes argento. Ed infine, con il colore aveo, torniamo ai tono su tono. Qui, l'anima si fonde con i colori del filato e la paillette rimane sul colore del grigio. Quelle che abbiamo appena visto sono tutte le nuove colorazioni dell'Allen Chic. Come avrete potuto notare, a differenza della versione sfumata, l'Allen Chic si presenta leggermente più grosso. Questo consente delle lavorazioni molto più veloci, pur mantenendo la sua caratteristica di una super morbidezza. Questo filato si presta alla realizzazione di maglioncini, ma anche, grazie al suo dettaglio di paillettes, alla realizzazione di scialli, per esempio da utilizzare per le uscite serali, anche quelle nelle occasioni più eleganti. Quindi parliamo di un filato che risulta essere al tempo stesso comodo, ma anche elegante, grazie all'aggiunta delle paillettes. Arrivati a questo punto non mi rimane che salutarvi e ricordarvi di attivare la campanella, iscrivervi al nostro canale Youtube e di seguirci su tutti i nostri social Facebook, la pagina Meglio di Maglia, Instagram, TikTok e sul nostro blog. Al prossimo Tessila News!